presentata in consiglio una proposta di risoluzione per favorire il sostegno alle rsa insediato l'osservatorio della legalità l'organismo sarà preseduto da don andrea bigalli stati generali della cultura a livorno una giornata di lavoro su live club imprese culturali e creative ai lavoratori dello spettacolo una proposta di risoluzione a sostegno delle rsa su iniziativa della commissione sanità è stata presentata una proposta di risoluzione sulle misure di sostegno al sistema delle residenze sanitarie per anziani toscane dalle audizioni svolte in commissione infatti è emerso il tema dell'equilibrio finanziario delle residenze per anziani alle prese con la mancanza di risorse di personale con l'aumento dei costi dell'energia per questo la proposta di risoluzione chiede alla giunta tra le altre cose di attivarsi col governo per adottare provvedimenti volti a sostenere il sistema dell'rsa e a mettere in atto forme di sostegno adeguate una pluralità di fattori l'aumento dei prezzi l'aumento dei costi di energia l'aumento dei costi legati alla gestione covid hanno generato una situazione di forte sofferenza per l'rsa che ha bisogno come sta facendo l'assessorato di una serie di analisi anche di cambi nell'organizzazione non nella normativa ma c'è bisogno anche di un aiuto economico perché oggettivamente se no tante rsa non riescono più a sostenere la gestione del servizio sono un elemento essenziale dei servizi per la non autosufficienza di integrazione con i servizi poi sanitari e quindi per noi diciamo chiediamo alla giunta di prevedere un contributo per aiutare e garantire la sostenibilità del sistema dell'rsa in toscana critico con le politiche della regione il consigliere torselli bisognerebbe fare una cosa semplicissima prendere atto che la regione toscana da 15 anni a questa parte non rivede la quota sanitaria mi risulta che da 15 anni a questa parte le spese per il mantenimento di un posto letto in rsa siano un po' differenti negli ultimi 15 anni forse le spese sono un attimino aumentate e la regione toscana non rivede la quota sanitaria quindi il documento che è uscito dalla terza commissione è un documento ben fatto è un documento che chiede giustamente il nuovo esercizio stilistico del partito democratico su qualunque punto chiedere soldi al governo quindi chiede giustamente un impegno del governo per prevedere un aiuto anche per sostentare i costi energetici dell'rsa il governo ha previsto di questo se ne sono dimenticati non l'hanno scritto nel documento gli chiederemo di inserirlo noi che il governo ha destinato 21 miliardi su 30 della manovra ai costi energetici non ha inserito l'rsa nella lista dei soggetti che ne possono beneficiare quindi giusto chiedere che vengano inseriti come giusto però chiedere anche la regione toscana rivede la quota sanitaria perché è troppo facile non far niente per 15 anni aspettare che l'rsa giustamente sottolineo giustamente ti vengano sotto il palazzo della regione a dirti che se continuiamo così sono destinati a morire quando invece un anno fa un anno e mezzo fa eravamo tutti sperticati in grandi elogi ringraziamenti alla grande rete dell'rsa toscana che hanno fronteggiato in prima linea la battaglia per il covid poi quando chiedono aiuto dire ok chiederemo soldi al governo no la toscana riveda la quota sanitaria che è ferma da 15 anni poi tutti insieme giustamente chiederemo al governo di impegnarsi anche per sostenere per aiutare l'rsa a fare fronte al caro energia Per Irene Galletti la rsa avevano bisogno di aiuto e sostegno già da tempo Parlare oggi di denaro che può avanzare alla regione è sicuramente rischioso perché in realtà i problemi che si trascinano la sanità e gli affari sociali sono molti e la coperta è corta certamente le rsa rappresentano una porzione fragile della nostra società che aveva bisogno già da tempo di essere aiutata già al momento in cui la pandemia ha colpito molto duramente e sono state molte le proteste che sono arrivate anche dai gestori e dalle famiglie che non potevano più permettersi di mantenere i propri cari all'interno dell'rsa anche quando non avevano nessun'altra scelta quindi la regione deve intervenire deve intervenire organizzativamente innanzitutto perché ricordiamo che c'è anche una carenza di personale che in gran parte in buona parte è transitato dalle rsa con i concorsi alla sanità delle asle e quindi le rsa si sono trovate di fronte anche a questo problema insomma la regione deve mettere mano sicuramente a delle soluzioni che non solo sono di carattere economico ma anche di carattere organizzativo anche Italia Viva sostiene che per la rsa bisogna fare di più serve rispetto di un ruolo straordinario che fanno le rsa nei territori noi siamo stati come Italia Viva i primi a depostare un atto a sostegno delle rsa i primi ad ascoltarli a ricevere le loro istanze bene che la commissione abbia raccolto anche le nostre istanze chiediamo di fare di più per questo sono arrivati degli emendamenti che sosteniamo ma chiediamo di fare di più anche in termini economici una risoluzione di buonsenso che noi sosteniamo in consiglio regionale deve essere accompagnata da delle risorse importanti non compete a me dire quanto 20 30 40 milioni sarebbe semplice oggi dire quanto è evidente che il prossimo bilancio non può non tener conto di questa che è una richiesta oggettiva rispetto a una rivalutazione ma non solo di costi crescenti che le strutture hanno e di una rivalutazione delle rette che deve essere ovviamente sostenuta dal sistema pubblico oltre all'impegno della regione il consigliere Galli si augura che anche il governo intervenga a sostegno dell'rsa la giunta aveva predisposto più di 200 milioni per l'rsa alla fine dell'anno ci sarà un disavanzo nel senso un positivo di 27 milioni 30 milioni all'incirca e questo è ciò che le risidenze per anziani richiedono per sopperire a tutte quelle mancanze che hanno dovuto purtroppo soffrire in questi anni da questo siamo ripartiti mi fa piacere che la commissione abbia recepito i miei messaggi che ormai durano da più di 12 mesi per quello che riguardava proprio le difficoltà delle residenze per anziani che hanno fatto da appunto covid hanno fatto da centro di accoglienza proprio per gli anziani che avrebbero se no intasato il pronto soccorso nel periodo covid e comunque la necessità proprio di rivedere le quote sanitarie o addirittura rivedere quello percepire quello che era stato un documento del 2010 in riferimento all'Istat questo è alle base di tutto dopodiché certo si cercherà e ci auguriamo che il governo possa dare e stanziare più fondi proprio perché questo è comunque una nazione che invecchia sempre di più ha sempre più persone anziane che hanno la necessità di essere curate e di avere delle residenze adatte proprio a quelle che sono le esigenze più gravi, meno gravi ma anche le persone che si rimangono poi dotate da sole insediato l'osservatorio della legalità sono felice che oggi parte il lavoro dell'osservatorio per la legalità che ho voluto fortemente per far sì che la Toscana resti parte giusta della storia quella della legalità e che contrasti e combatta con tutte le proprie forze le infiltrazioni criminali che purtroppo ci sono anche nella nostra regione anche se in forme differenti rispetto alle altre regioni italiane lo ha detto il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo in occasione dell'insediamento della commissione di orientamento dell'osservatorio della legalità istituito con legge regionale con l'obiettivo di raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza anche sotto forma di infiltrazioni delle organizzazioni malavitose sul territorio toscano e avanzare proposte per contrastare ogni forma di criminalità organizzata dell'osservatorio oltre al presidente Mazzeo ne fanno parte don Andrea Bigalli che era già stato designato presidente dalla deliberazione del consiglio regionale con la quale sono stati nominati membri dell'organismo ma anche consiglieri regionali Jacopo Melio, Valentina Mercanti e Luciana Bartolini e ancora Salvatore Calleri, Gabriele Berni, Laria Santi, Liuba Ghidotti e Sara D'Ambrosio Sono davvero felice oggi che parta il lavoro dell'osservatorio regionale per la legalità l'ho voluto fortemente, lo abbiamo voluto fortemente per dire che la Toscana è e resterà dalla parte giusta della storia quella della legalità che combatterà con tutte le proprie forze le infiltrazioni criminali che purtroppo anche nella nostra regione ci sono in forma differenti rispetto ad altre regioni d'Italia un grazie a tutti coloro i quali faranno parte dell'osservatorio in particolare a don Andrea Bigalli che lo presiederà saremo sentinelle anche noi della lotta alla legalità faremo la nostra parte insieme a tutte quelle associazioni a tutti coloro i quali con impegno e dedizione lo fanno ormai da tanto tempo Per il presidente dell'osservatorio don Andrea Bigalli l'osservatorio emanazione diretta del consiglio regionale crea un ambito che ha lo scopo di interagire con la società civile in particolare con la sua dimensione associativa quella degli enti amministrativi e delle realtà che di volta in volta saranno convocate si tratta di un'attività che permetterà all'osservatorio stesso di orientarsi con le varie attività di ricerca di esplorare il territorio di comprendere i meccanismi dell'infiltrazione le dimensioni del contrasto alle infiltrazioni criminali e sarà un'attività che svolgerà con tutte le realtà che in altri ambiti sociali lavorano su questa tematica Si insedia oggi la commissione di orientamento dell'osservatorio regionale sulla legalità quindi ricordo che siamo di fronte a un'istituzione una emanazione diretta del consiglio regionale la quale però si dota di una commissione di orientamento è importante creare questi ambiti in cui interagisce la società civile attraverso la dimensione associativa, degli enti amministrativi delle realtà anche di volta in volta saranno convocate in modo che l'osservatorio stesso si orienti con le varie attività di ricerca, esplorazione del territorio, comprensione dei meccanismi dell'infiltrazione, dimensione del contrasto in quanto tale con tutte le realtà appunto che in altri ambiti sociali lavorano su questa tematica quindi è quanto mai importante che questa commissione faccia un lavoro il più aperto possibile il più attento possibile a tutte le voci molteplici che arrivano sul territorio a riguardo nel giugno 2021 il consiglio regionale ha approvato una legge che aggiornando la legge che lo istituiva estende compiti dell'osservatorio all'analisi delle cause principali dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale l'istituto dovrà anche elaborare linee guida per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata da condividere con la regione e gli enti locali e raccogliere informazioni e dati utili alla fine della valutazione e della trasparenza negli appalti dalla genese alla conclusione dei lavori Stati Generali della Cultura il confronto con gli operatori dello spettacolo dal vivo proseguono le consultazioni degli Stati Generali della Cultura il primo incontro sul territorio si è tenuto a Livorno per la commissione del consiglio regionale preseduta da Cristina Giacchi una delegazione guidata dalla Presidente accompagnata dalla Vice Presidente Luciana Bartolini e dalle consigliere regionali Elena Rosignoli e Silvia Noferi ha incontrato gli operatori degli spettacoli dal vivo ha partecipato all'incontro anche il consigliere regionale l'espressione del territorio Francesco Gazzetti un effetto della pandemia positivo, minimo è stato che si sono creati dei coordinamenti informali tra gli operatori del mondo della cultura che sono notoriamente più settori a più alto tasso di individualità stiamo cominciando a interloquire con questi coordinamenti per mettere in luce insieme a loro quali sono le priorità di intervento le necessità e i bisogni per organizzare in modo più strategico l'investimento pubblico in questi settori che sono settori importanti come anche condivide gran parte della popolazione toscana oggi siamo a Livorno per la prima tappa in presenza degli Stati Generali della Cultura che hanno proprio questa finalità insieme disegnare il futuro delle politiche culturali in regione toscana farle diventare, metterle al centro dell'attività di programmazione strategica della regione toscana perché come ci ha rivelato l'indagine condotta online e valutata da IRPET è un settore che impiega quasi 100.000 lavoratori in Toscana e che produce il 2% del PIL senza contare l'indotto turistico che invece genera il 12% del PIL quindi un settore importante un settore che crea lavoro che ha bisogno di un lavoro più organizzato più inquadrato e di una generale non soltanto in generale di maggiori finanziamenti ma anche di finanziamenti meglio distribuiti più programmati è importante ascoltare le loro richieste e conoscere il loro modo di lavorare ha sottolineato la vicepresidente della Commissione Istruzione e Cultura Luciana Bartolini ed è quello che stiamo facendo con gli Stati Generali capire prima per provare poi a fare qualcosa di concreto a livello legislativo gli aiuti da parte del pubblico servono sicuramente per poter andare avanti perché si tratta di un settore vivo molto importante per la Toscana che impiega tantissime persone e crea lavoro e dà lavoro anche se si tratta di un'occupazione molto spesso precaria e servirà una legge precisa su questo settore ha detto è importante che ascoltiamo le loro richieste il loro modo di lavorare eccetera è quello che stiamo facendo proprio con gli Stati Generali della Cultura capire prima come sono le cose per provare poi a fare qualcosa a livello legislativo per poterli proprio aiutare siamo qui oggi in questo bellissimo museo a Livorno ed è la prima uscita della Commissione proprio per incontrare noi le persone del mondo dello spettacolo dal vivo in particolare oggi della musica quindi siamo qui per ascoltarli continueremo ad ascoltare altre persone in seguito facendo appunto queste uscite sui vari territori e poi tireremo le somme perché la cultura in Toscana deve essere veramente strategica e quindi avere una programmazione seria un ampio dibattito da cui sono emerse le richieste è formalizzata da Luca Zannotti del coordinamento informale della rete dei promoter della Toscana chiediamo il riconoscimento dei love club delle imprese culturali creative e di tutti quei lavoratori coinvolti che animano la filiera e che producono quello che si ascolta nei club ma anche negli stadi e nei palazzetti ha detto Zannotti il sistema culturale ha bisogno soprattutto in una fase di grande crisi prima pandemica e poi energetica che depotenzia la capacità delle nostre imprese di un intervento pubblico per tutelare i nostri presidi diversamente rischia di non superare questa fase Siamo oggi al Museo di Scienze Naturali Mediterraneo per portare spunti, idee ed emendare un'integrazione all'attuale legge regionale che non parla di noi non parla della nostra filiera non parla dei nostri live club delle nostre imprese culturali creative legate alla musica dal vivo non parla nella specificità di un settore che produce indotto che produce coesione sociale con i live club che produce occupazione giovanile occupazione di genere altamente specializzata e produce indotto sui nostri territori è opportuno che una legge regionale di una regione come la nostra che ha una grande vocazione una grande storia culturale e creativa è indispensabile è indispensabile che questa legge parli dei nostri luoghi della cultura e dei nostri presidi culturali